a testa cicchetti a testa cicchetti pronto e benvenuti ragazzolini attenzione luca si l'ambulanza no la testa cicchetti allora ha pronto soccorso di teramo allora dottoressa di sante capito luca l'ambulanza pronto soccorso di teramo dottoressa di sante ma l'altra signora per capore l'altra signora attenzione che se ho date la mano date la mano occhio occhio date la mano si è sprofondato qua è luca si sprofondate attenzione che si sprofonde visto vieni 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 1 2 3 Grazie.